wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder allora ragazzi oggi c'è da prendere il premio della quarta settimana di deadpool e che premio è le doppie catane come backpack ovviamente dove si trovano queste catane beh ragazzi è semplicissimo basta semplicemente che nella sezione pass battaglia entrate nel magazzino dei potenziamenti ed esattamente nella parte sinistra dello schermo guardando vicino al p90 troverete la katana non è ancora uscita praticamente esattamente dietro la mia webcam in modo da capire la posizione insomma ragazzi riscattatela poi c'è da fare semplicemente dei danni alle strutture avversarie e quindi otterremo questo backpack noi vi ringraziamo tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali e noi ci vediamo presto ciao ragazzi live va che resto in live ciao